Non posso credere che ti sposi quello. Quello è il mio fidanzato. Sì, ma tu ami me. Che figura di merda. Se c'è una sposa, c'è la c'ola, c'è la c'ola. Lasciate la sposa. Il matrimonio è fondamentale. È il momento in cui i due anime si uniscono per... Una famiglia. Un conto corrente, papà. La donna più inveccia non è buona. Mi chiami tu, sentire a cellulare, amore mio. Sì, ti chiamo. Due colpetti di Kamasutra. È quello che ci voleva. Ma sai che quella da Piazza è un tipo particolare? Ma è che il mostro... Lo mangierai, pronti? Ma come si permette? Guardi che noi qui a San Moritz siamo abituati a cose molto scipite. Panna d'ascurazione! Tra moglie e marito devi mettere il dito. Ma prima. Sai, io sono un ragazzo semplice, dall'animo gentile. Ma una domanda te la voglio fare, Patti. Poi scopà! Dimmi la verità, ti piacciono lui un po'. Sei troppo. Troppo? Troppo sola! Ok? Pronto, chi è che sefiscia? Se vieni qui, le faccia sta giaccia da ciccia. Al finale è disturbata l'animo. Mazzola calotta, la lunnetta. La nonna di Heidi. San Moritz. Ma noi ti dobbiamo chiedere una cosa molto importante. Eh, che parla di te oggi? Sì, porre. La festa della Diannubilate. Dov'è? Mazzola, non ci vedi? Sta qua la festa. Mettilo in coda, ma. Il lecca-lecca non lo voglio fare, glielo dico subito. Il lecca-lecca non è finito. E cos'è? Il bastoncino. Signora, guardi com'è bello. È un porcelino d'India. Guardi. Il 26 novembre al cinema. È già Natale. Passaparola. Allora bello. Allora bello. Grazie per la visione!